Ciao, allora questo è un video di creazioni, vi mostro i miei primi tre paio di orecchini molto semplici, eseguiti con il peyote e le embroidery. Visto che, come vi ho già detto, sto imparando la tecnica delle embroidery, però non mi piacciono quelle collane troppo pesanti, cioè mi piacciono vederle ma non mi piace realizzarle e quindi preferisco fare o ciondoli o comunque di qualcosa di molto semplice, unendo la tecnica del peyote con quella delle embroidery. Allora, mi è venuto in mente che quando faccio qualche mercatino mi chiedono sempre dei paio di orecchini, magari non lunghi, tipo dei brillantini, comunque proprio attaccati all'orecchio senza troppi sfronzoli, diciamo così. E quindi mi è venuto in mente di crearli con dei piccoli rivoli che avevo, di creare questi orecchini molto semplici. Allora, adesso io aspettate che alzo, accendo un po' la luce. Allora, ho fatto tre paia. Allora, iniziamo con queste qui, che sono queste due stelline, dove, come potete vedere, ho utilizzato la tecnica delle embroidery perché ho incollato i rivoli sul tessuto, su un pezzo di, questo non è alcantara, mi sembra che è feltro, e poi ho incastonato il tutto. Aspettate che, ecco, sono un po' imbranata oggi. Ho incastonato il tutto e ho creato la mia decorazione a fantasia. Allora, questo, avevo questo rivoli, appunto, questo specie di rosa e ho fatto una stellina. Ho fatto una stellina e quindi ho creato due paia di orecchini, appunto, così. Poi ho fatto questo, ovviamente un po' il colore non si vede molto bene. Anche questo, questo rivoli l'ho incollato, ho incollato poi il, diciamo, la parte in metallo e ho fatto questa stellina, ma questa volta, aspettate che, ho deciso di fare anche una codina con degli swarovski. Secondo me sono molto simpatici, all'obbo sono bellissimi perché io adesso ve ne faccio vedere questi tre paia qui, però in verità ne ho fatto anche un altro paio che me lo sono ottenuti per me perché nel tagliare il feltro dietro ho rotto una fantasia, ho dovuto ricucire il tutto e visto che non erano proprio perfetti ho deciso di provarli io e mi sto trovando veramente bene. Questo invece, aspettate che ne prendo solo uno, se no, è un rivoli viola, ho deciso di incastonarli con queste, fare questa decorazione qui con queste delica oro e rocaille da 15 oro, ma hanno anche dei colori sull'arcobaleno e di mettere queste gocce che avevo lì da diverso tempo per fare degli orecchini un po' più da sera, un po' più importanti, ecco. Insomma, a me piacciono veramente molto. Adesso vedo di metterle qui perché, scusate, ma al tempo, essendo quello che è, non riesco a trovare la giusta luce. Quindi questi, poi le stelline, uno e due, anche questo qua si sfasa un po' il colore. E queste qua, insomma, secondo me sono delle idee che voglio proporvi, sono molto semplici, realizzabili anche per chi non ha una conoscenza come me, diciamo, troppo dell'embroder, insomma, che ha le prime armi, un po' come lo sono io, e si fanno secondo me questi orecchini che sono molto 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 carini. Ecco, i rivoli che ho dentro, se non mi ricordo la misura, in verità sono sempre una di quelle cose che sto riciclando da, vediamo se li trovo, che avevo lì da diversi anni, ma vi parlo veramente di anni, no, non ce li ho qua, e sono quei rivoli di Swarovski che sono piatti sotto e hanno i buchi laterali, che li avevo presi, adesso no, non li trovo, diverso, ma diverso tempo fa, e inizialmente ci facevo, boh, degli orecchini, insomma, dei braccialetti con quelli lì, ma non, diciamo che non, che erano lì a far niente, perché poi dopo non avevo ancora, li avevo abbandonati, ecco, forse diciamo così, e adesso mi sono risaltati fuori questi colori, e ho detto, perché no, posso fare questi orecchini, così faccio fuori un po' di questi rivoli che avevo, e niente, insomma, a me piace veramente molto, anche perché sono orecchini semplici, portabili da tutti, e poi possiamo sbizzarrirci di fantasia o stelline, o con qualche penzolino qui, insomma, secondo me sono carini, ditemi cosa ne pensate, e niente, per ora è tutto, a presto un altro video di creazioni, vi mando un bacio, ciao!